E bella a tutti ragazzi del vostro Y di Tomelodio che vi parla Ragazzi io volevo fare questo video perchè come potete vedere è da ben 4 giorni che non sto facendo nessuna live Ma state tranquilli non sono né scomparso, non mi è successo nulla, state davvero tranquilli Come potete capire è la scuola che mi da tutti quanti questi problemi Tanti possono pensare che non sto facendo le live perchè non ce lo voglio io Ma non è assolutamente vero questa cosa Perchè voi sapete che quando ho il tempo le faccio le live Quindi tutti quanti quelli che dicono o credono che le live non le voglio fare io è assolutamente sbagliato Perchè andate per vedere le scorse live 4 o 5 mesi fa come le facevo le live e davvero le intratteniamo un sacco Ora sono sceso di brutto perchè un sacco di cose mi stanno dando problemi Quindi non riesco a farle come prima le live ma può essere che ritornano Comunque tranquilli noi raga ci vediamo molto probabilmente domani Con la nuova live ve voglio bene